questo romanzo nasce da desiderio di chiedere scusa a tutti coloro che sono costretti a vivere dai stili in questa società e in questo mondo che crescono convinti di non evitare amore, dignità e soprattutto libertà. Questo romanzo nasce da desiderio di uscire da una condizione di isolamento sotto l'izione fessa. Prima di iniziarmi a preoccupare di questo tema che non era e non faceva parte di una mia esperienza diretta. La mia esperienza è la mia esperienza. La mia esperienza è la mia esperienza.